tanti auguri a te tanti auguri tipo non a te fino al 23 agosto e voglio 58 anni mamma mia mamma mia non è a te oggi lunedì 17 aprile il compleanno di leo e non potevamo non essere con leo oggi tanti auguri auguri grazie mille era da un po che non ci vedevamo il periodo 10 giorni dai il periodo più lungo il periodo più lungo in cui non ci siamo visti da quando abbiamo iniziato questa nostra avventura quando avete messo l'ultima che avevamo fatti prima un macello e con questo non ho tutti tutti allora quando vai le allora quando vai quando vai quando vai che mi hai fatto quella domanda la è la domanda e te la rifaccio ti hanno fatto capire almeno che ci siamo ormai se qui ti hanno detto che vai entro la fine del mese vai sì sì se non è entro alla fine del mese sarà i primi di ma ma lo spero ma basta ma ti hanno detto ti hanno detto che ci vai adesso mi stanno facendo fare i gruppi come ti ho detto ogni giovedì vai a fare i gruppi sono utili si sono utili perché faccio anche come posso dire interagisco con gli altri quindi confronti anche su quella personalmente sono proprio non duri nel senso ti mettono alla prova con le spalle al muro come stiamo noi in questo momento come la mia educatrice che ringraziamo perché una bella tosta pan al pan vino al vino eh che sono le persone che sono le persone che servono a te perché tu quando non è così tendi a svicolare un pochettino no ma piuttosto che incontrarci qua potremmo potremmo trovare la barca no si deve offrire no perché siamo venuti qua perché il nostro regalo sarebbe stato una spesa ma abbiamo appreso da leo che il papà ha provveduto a bonificare quindi se riuscite mi ha chiamato per farmi gli auguri per farmi tutto quindi abbiamo ricucito un po con con papà si gli ho scritto anche un bel messaggio anche se non l'ho mai fatto a papà è importante esprimere i propri sentimenti è importante perché l'altro capisce non intuisce soltanto ma capisce quello che provi per per lui lo devi dire devi buttare il sangue come si dice da queste parti che cosa hai oggi ti stai troppo esuberante non lo so è vero sta proprio è 17 e 17 allora potevamo fare dopo due giorni di riposo proprio per lui è tutto così no non ci siamo fermati e che dobbiamo prendere fiato perché dopo quante cose abbiamo da dirci dopo dieci giorni hai avuto gli auguri da tutti 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 ma proprio tutti proprio tutti se questa volta non me ne frega niente le ha avuti da tutti è importante perché vuol dire che c'è ancora qualcosa di profondo che non ti fa dimenticare di chi ami da poi uno non si vede uno per tante ragioni tra un mese il mio bambino fa un anno eh sì lo festeggio ogni mese almeno all'anno è doveroso e chissà 25 maggio e chissà che il regalo che il regalo non sia proprio l'ingresso in comunità entro quella data da poter dimostrare anche a tuo figlio fino a 25 no dico magari fai la videochiamata dalla comunità e e poi vederlo sotto anche un'ottica un'ottica diversa ti vedo la libera uscita no la libera uscita dopo un mese in comunità non si ha tino lo sai eppure abbiamo affrontato questi questi tempi volte non sia la libera uscita ci vuole devi farti il per avere la libera uscita il mazzo per avere la libera uscita lo sai faccio io un mazzo tanto si tanto te lo devo fare a te è insostenibile invece dopo dieci giorni come è diventato cioè è diventato più aggressivo più non si può contenere non si può contenere e invece perché tanti lo chiedono è inutile che ci giriamo intorno come va da molti meglio molto ma tre fai due no non ne voglio basta l'ultima risale ormai a diversi giorni fa basta cambiare l'hai detto certo se non altro non ha più scroccato niente da nessuno lo dobbiamo dire lo dobbiamo dire c'è qualcuno che ci ha fatto spaventare perché ha avuto un momento down ma non ne ha approfittato e quindi questo è stato il cambio proprio di rotta evidente concreto che hai ovvio dopo dopo quel video l'ho rivisto io da solo ci pensi a quelle cose là poi voi non lo fate tanto per farlo ma non fa gesù lo fate perché mi volete bene perché volete che speriamo che tu riesca a comprendere quello che effettivamente anche tu stesso dici perché poi guardandola dopo immagino sia diverso sì no riesce a metabolizzarlo di più a rifletterci non ho letto i commenti però mi bastava solo 1.400 commenti consigli legge 400 commenti cioè è quasi improponibile 1.400 commenti anche perché i soliti hater ci sono ma non la gente dopo quel video anche mi ha scritto anche in privato cose belle incoraggianti incoraggianti mi raccomando leo lo sappiamo che quando entri in quella fase lì è difficile anche perché forse chi commenti in un certo modo non sanno no io dico gli altri e quelli che evidentemente sono caduti e sanno quanto è difficile può rialzarsi in quelle circostanze leo io sono andato peggio di te ho fatto quello peggio di quel video che hai fatto tecnico ho fatto peggio tu ne hai ammazzato qualcuno per prendere i soldi alcuno lo fanno ho fatto la magagnette ma chiesto scusa assolutamente lo abbiamo anche molto apprezzato piace molto con rumore piace a te lo so che piace con rumore tino non ti eccitare troppo così guarda incontenibile inco non si può contenere più e quindi adesso stiamo veleggiando con una certa serenità quel periodo burrascoso è finito quel periodo burrascoso in comunità in comunità va entri ed esci meno dalla comunità più gente che sto dentro beh adesso devi pagare il complimento andiamo a prendere qualcosa certo per ora è solo per ora è quasi tutto un bacio a tutti un bacio a tutti taleo che vedete dopo la ricaduta c'è sempre la possibilità di rialzarsi non bisogna mai disperare puoi cadere quante volte vuoi ma devi rialzarti amen amen